Casta, dal 1972 ad oggi, produce cucine per la grande e piccola ristorazione. Tutta la qualità del made in Italy dove si incontrano tecnologia e tradizione. Casta progetta, produce e vende direttamente le sue cucine professionali, offrendo inoltre assistenza per tutti i suoi prodotti. Casta vi aspetta a Forlì in Via Fratelli Lumiere 11, zona industriale Villa Selva.